e qualunque è tutto e scusare se intercorrenza è con la tasta felicità buongiorno a tutti sono il comitato lo signo ci sarà no, qui il nome del portatore è Gino Di Giacomo e dopo non è venuto essere presente in Messico appunto di importare i cicleros e lui tanto spaventare sono qui per dire pochissime parole giusto per presentarvi il prodotto, ricordare a chi conosce il prodotto che è unico nel suo genere il prodotto viene adattabile al 100% e con il grande sforzo con il grande sforzo i cicleros e con il grande sforzo dopo tanti anni sono riusciti a arnazzi le cooperative e sono riusciti a prendere il ciclo, la coma come prodotto creando cizza questo prodotto è un prodotto unico perché il biodegradato se il piccolo viene settato in terra non è veramente dopo due mesi scompare non lascia niente non è più anzi loro utilizzano bisogna dire che viene dalla terra e ricordate perché appunto scompare totalmente è naturale al 100% perché è fatto un fatto più buono come vogliamo loro finci i suoi ingredienti sono naturali viene con il ciclo con il ciclo soltanto queste voi parole per ricordarvi che è un prodotto che sia in mercato di mercato in un mercato assassino come quello dei chunica dove la famosa è soltanto un certo tipo di chunica che vi ricordo un tipo petrolio con la chimica senza che bene quando masticate in qualcosa che state masticando qualcosa di prima ma questo no questo assolutamente no volevo soltanto dirvi per se poter ringraziarvi per l'autorità e l'ultima volta che veniamo qui e apprezziamo la vostra socialità e li potete trovare allora in un momento sono sicuramente in commercio e in farmacina e potete apprezzarvi nei negozi di io nel neoportare per i centrali e questi lavoratori a strada e come lavora insomma quella è una storia che è un tempo chiaro il messaggio e sono alcuni centri commerciali tra batterie insomma potete trovarla comunque in identità e realtà è un 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 tutto e ringrazio molto a questo mi sento accogliendo i suggerimenti estemporani di Paul quando diceva che bisogna costruire un'attività pubblicitaria pubblicitaria dobbiamo pubblicitare questo qui perché altrimenti valgono giusto per realizzare il convegno per dire che il problema non solo di produrre ma anche di creare la domanda non solo di creare ma allora diciamo che ho dato riscontato prima Daniele Maurizio e ho dato riscontato prima che questa discussione soprattutto per la scala scarpa continuerà ciao ciao